Giornata calda in tutti i sensi, però ci stiamo dimettendo con i bimbi e le loro famiglie che sono veramente sempre più soddisfatte di come stanno andando i nostri centri estivi grazie ai fondi che sono stati appostati da Welfare, dall'organizzazione anche che insieme all'assessore Figocele e all'assessore Cicquepalvi stiamo mettendo in piedi. Oggi siamo qui al primo, no? Lebra che inizia a lavorare da qui fino al 30 agosto, tanti bimbi, fa un po' caldo, ripeto, però la città è molto contenta di questa iniziativa e indipendentemente dai fondi che mediamente arrivano anche da livello di governo, noi ci stiamo impegnando ogni anno a ripetere insomma questa esperienza e ormai credo che insomma il FOM sia positivo. Estremamente positivo, sì, è un progetto riuscitissimo, grazie all'intuizione del sindaco abbiamo messo a disposizione le nostre strutture asilari, il progetto riuscitissimo sta andando estremamente a spena.